Avete presente quelli che non si fanno mai sentire a meno che non vi facciate sentire voi? Ah, non schippare! Ecco, a me ultimamente succede la stessa cosa con i soldi. Spariscono, però non si fanno sentire per mesi, anni. Allora mi sono detto, oggi gliene dico quattro. Allora, cari vecchi soldi, dove siete? Qui ci metto una faccettina sorridente che fa l'occhiolino che funziona sempre. Dove siete? Dice che un centinaio di miliardi di voi se ne stanno nascosti nelle case sotto ai materassi, parcheggiati in dei conti inattivi, in delle banche che non si sa bene come li usano. Dice che vi fanno girare. E altri ancora, invece, me ne siete andati in Svizzera. Cioè, io posso capire al limite le isole Cayman, ma Mendrisio proprio no. Altri ancora, invece, in dei fondi con dei nomi un po' più furbi, ammiccanti, tipo paesi emergenti. Perché? Ma chi ve lo fa fare? Tornate qui. In questo paese emergente è qui. C'è da sostenere lo sviluppo locale di qui. Ci sono anche tanti giovani con dei bellissimi progetti. Pieni di energia, di voglia, di capelli. Sì, anche di capelli, perché no? Insomma, in parole povere ci sarebbe l'interesse comune da fare. Come? Marisa, Paola, Aldo, la cassiera del supermercato, impiegati, commercialisti, medici, fantini, giornalisti, giornalai. Voi, insomma. Alzate il materasso. Non date i soldi a chi non vi dice come li usa. Aprite un conto in Banca Etica. Banca Etica è una banca libera, completamente trasparente, perché si occupa di finanziare progetti che sono dedicati esclusivamente all'interesse comune. Progetti per la società, l'ambiente, la cultura. E a chi non piacciono la società, l'ambiente, la cultura? E i gattini. Prima i gattini italiani. E voi, cari vecchi soldi? Dai, vediamoci. Ci sono un sacco di cose da fare. Per conoscere meglio Banca Etica e saperne di più sui progetti che finanzia, vai su bancaetica.it. Banca Etica. L'interesse più alto è quello di tutti.